Dopo il parco Plastic Free si va verso il parco Carta Free. Lo ha annunciato il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Liano e Alburni, Tommaso Pellegrino, nell'ultima riunione del Consiglio Direttivo. Dalla prossima tutto sarà informatizzato e ogni consigliere utilizzerà un tablet per le comunicazioni e gli atti. In previsione c'è anche la realizzazione di una piattaforma che permetterà ai comuni di inviare le proprie istanze all'ente parco in modalità telematica, così da velocizzare la comunicazione e gli scambi amministrativi. Per ciò che concerne la gestione dell'ente, la lotta alla carta è già partita. A breve anche i dipendenti saranno messi in condizioni di poter utilizzare dei collegamenti telematici interni piuttosto che utilizzare la carta per la produzione della documentazione necessaria ai fini delle attività amministrative. Rispettare l'ambiente e a cominciare dalle buone azioni dello stesso ente è una priorità fondamentale, oltre che un dovere per un'importante aria protetta come la nostra, che quotidianamente è impegnata in azioni di tutela ambientale e in azioni di contenimento della spesa, ha dichiarato il Presidente Pellegrino.